E questo è il consueto appuntamento con l'intervallo, un momento in cui rilassare il corpo, le gambe, ma viaggiare con lo sguardo e con la fantasia. Oggi facciamo un giro per le strade delle nostre città. Non guarderemo i monumenti, non guarderemo nemmeno il traffico, ma guarderemo i muri delle nostre città, sui quali spesso ci sono dei capolavori di street art, ma non ce ne accorgiamo. Intervallo. Grazie a tutti. E noi torniamo subito con Dimmi Quando. A tra poco.